E' finita. Non c'è credo. Non c'è credo. Non ho parole ragazzi. Poteva essere la seconda italiana di fila. Da quando è nata la competizione. Poteva rimanere in Italia. A vincere una conference league. Poteva rimanere in Italia. Invece purtroppo la sfiora. Incredibilmente incredibile. Incredibilmente incredibile. Dopo la Roma. Anche la Fiorentina perde la finale. Finisce purtroppo così per i nostri amici. Toscani 2 a 1 per il West Ham. Le italiane fino adesso sono arrivate in finale. Ma poi non sono riusciti a fare quel saltino di qualità che avrebbe potuto portare a casa la Coppa. Sia la Roma contro Siviglia che questa sera la Fiorentina contro quella che poca roba si può chiamare West Ham. Io ero convintissimo che questa sera la Fiorentina portava a casa il trofeo. Confidavo tutto nella viola. Onestamente. Devo dire un'altra grande partita. La Fiorentina quest'anno ha giocato due finali. Quella di Coppa Italia e quella di stasera. Bene. Quella di stasera ha giocato ancora meglio. Ancora meglio perché è vero. Contro l'Inter ha creato di più. C'erano più spazi. Ma ha anche subito. Oggi la Fiorentina ha subito poco niente. Guardate io ve lo dico molto concretamente, molto direttamente, in maniera molto secca. Secondo me abbiamo meritato di perdere. E abbiamo meritato di perdere un po' per delle scelte di formazione iniziale. Ma soprattutto perché oggi non ho visto una bella Fiorentina. Non sono d'accordo con il cronista che diceva Fiorentina che ha dominato. Fiorentina che ha... dove? Cosa ha prodotto questo presunto dominio? Come mi rode il culo ragazzi. Mi rode veramente, veramente il culo. Credevo che stasera la Fiorentina potesse portare a casa la Coppa. Perché poi dopo, avendo visto la partita, ero sicuro che poi alla fine l'avrebbe vinta. Perché, insomma, se c'era una squadra che doveva vincerla questa Coppa, era proprio la Fiorentina. E stasera ha giocato solo la Fiorentina contro una squadraccia. Dove hanno avuto il culo in faccia nel fare questo gol al novantesimo minuto. La Fiorentina ha perso questa finale. Secondo me, ancora una volta dimostrando dei limiti storici, perché questo Western era assolutamente alla portata. Ma proprio una squadra che ha solo pensato a trovare delle soluzioni sporche. Un regalo su una rimessa lunga non si può far regalare un rigore come Biraghi. La scusa della sigaretta elettronica in testa. Inconcepibile che nel 2023 si debba vedere ancora un tifoso libero di poter creare danno a giocatori o atleti in campo. O allenatori o staff tecnico. Che dissi voi? Ci speravo in questa maniera. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo proprio perché riuscire a ripigliare una partita in questa maniera dove c'era praticamente una sudditanza psicologica di un arbitro che aveva paura di pigliare gli accendini in testa e bicchieri. Perché questa è stata la partita di stasera. Una partita contornata da animali che lanciavano di tutto in terra. Questi sono tifosi inglesi. Pensa un po'. Il problema sapete qual è? Punto uno. Io ho visto i festeggiare nello spogliatoio prima che iniziava la partita. Com'era? Torniamo. Campioni. Come nel 56. Come va la canzone? Negli spogliatoio già faceva la festa. Quindi già capisci che quando una squadra festeggia prima di giocare nella competizione ha perso in partenza. Punto due. Ho visto i tifosi della Fiorentina hanno inquadrato con lo striscione Juve e merda. Quindi anche quando giocate un evento raro che vi capita una volta ogni 50 anni. Pensate alla Juventus. Quindi giusto che perdi. Punto tre. Ci sta quel giocatore che è entrato. Sapete come è nel coro? Oh 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 oh. Angelo Bonna, porca ma bip. Oh 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 oh. Angelo Bonna, porca ma bip. Godo. Due su due. E' andato, ora ci vuole la terza Manca la terza E' finita Al novantesimo, il primo tempo Hanno dormito E' finita, ora tocca solo a noi Interisti Maremma Mayala Maremma Mayala Maremma Mayala Ma che tu fai Fiorentina Un'altra finale persa Mannaggia a voi Che ero qua che tifavo Jack, Jack di cuori Che ha fatto pure il gol Mi gira il cazzo Mi gira il cazzo Ma perché Soprattutto per i tifosi Del West Ham Che lanciavano oggetti Che hanno colpito viraghi Si meritavano di succare la carota Si meritavano E invece la carota ce la succhiamo noi Oh Fiorentina E lì tu sei E' chiappato in culo Che lì tu vuoi Adesso ditemi Ditemi Fiorentini Adesso gli inglesi Sono delle merde E' chiappato in culo 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 Grazie a tutti.